Favorevole Sono veramente colpito dal modo come si sono presentati i ragazzi dopo la faticata del viaggio, della partita, oggi mi sono sembrati giusti e quindi sono molto molto fiducioso. Purtroppo Delia aveva un affaticamento muscolare e di conseguenza abbiamo alternative tra De Santis o Capion che abbiamo usato anche a Palermo. Il ragazzo bisogna lasciare un attimo tranquillo perché chiaramente è venuto fuori una situazione diciamo inspiegabile e adesso bisogna un attimino che si tranquillizzi e si metta un attimino a posto. Baci dà garanzia, è comunque un ragazzo che si è sempre allenato? Ma adesso decidiamo domani, decidiamo domani un attimino il da farsi, è chiaro che ci sta Baci che si è allenato sempre bene con noi quindi può essere un'alternativa positiva. Abbiamo due o tre soluzioni per cercare di far respirare magari qualcuno e soprattutto per cercare anche di avere le forze nel secondo tempo per fare dei cambi che ci possono dare forza anche nel secondo tempo quindi questo può essere una soluzione come anche in altri ruoli possiamo fare qualche rotazione. Arriva un avversario, il Crotone che è anche recentemente cambiato allenatore, è tornato a Stroop. Sì, è una squadra che individualmente è molto 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 forte, inspiegabile la classifica che ha, i giocatori che l'anno prima hanno fatto Serie A e di conseguenza questo è un cambio che diciamo non so se può portare qualche beneficio a noi ma penso di no perché comunque in questo momento qui è tornato Stroop quindi sicuramente adesso i giocatori non hanno nessun tipo di alibi e secondo me faranno una grande partita qui ad Ascoli. Il allenamento è solo questo oggi pomeriggio, veniamo da questa partita e chiaramente da parte nostra, da parte mia, da parte nostra c'è tanta rabbia, tanta rabbia perché ci mancano veramente, secondo me non voglio esagerare ma 5-6 punti mancano alle prestazioni che hanno fatto i ragazzi dell'Ascoli. E questa è una cosa che noi dobbiamo trasformare in rabbia soprattutto in questa partita qui contro il Crotone perché veramente abbiamo dimostrato fino adesso di essere una squadra all'altezza di questo campionato con prestazioni di livello che purtroppo non sono stati mai coronati diciamo appieno con i punti per degli episodi clamorosi, degli episodi proprio assurdi in più di un'occasione. Se andiamo a vedere anche il discorso degli albitri che secondo me si deve andare a bilanciare da qui a fine campionato perché ogni partita ne abbiamo una. Faccio un esempio ma adesso perché l'ho rivisto e mette rabbia perché non era nemmeno importante per il fine del risultato perché perdavamo 3-0 ma all'ultimo minuto un rigore netto clamoroso per Beretta non ci viene dato. Sembra che quando c'è l'Ascoli gli arbitri proprio e quindi anche lì abbiamo perso punti per queste situazioni qui quindi andiamo a sommare effettivamente adesso ci abbiamo molta molta rabbia perché per noi la classifica poteva essere diversamente da quella che abbiamo. Grazie a tutti.